E ciao a tutti ragazzi io ovviamente dico ovviamente perché ovviamente c'è questa è la prima volta che dico ovviamente in sta serie vabbè e oggi ragazzi siamo indovinati un po' siamo nella tre punti intero sono scemo Oggi siamo nella tre punti interrogativi aia ma do raga scusa mi stai inseguendo un coso ho dei blocchi faccio un pillar Ok ragazzi oggi siamo nella tre punti interrogativi assalti da un mostro dei cosi dico qualcuno mi tolga l'effetto ma togliamocelo con i comandi ma vaffanbaglio Ok adesso siamo bene sani vivi e beciti allora abbiamo imparato ragazzi che il mostro peggiore della tre punti interrogativi è proprio lo swamp monster Perché secondo me è il più infame Ok adesso noi andiamo a prenderci i cosi di questo qua Tecnicamente credo non ne sono sicuro che i cosi siano della Che i cosi come si chiamano gli swamp monster siano lenti Oppure minecraft che lagga mi sa che è più minecraft che lagga Meglio così raga che minecraft lagga Allora prendiamoci quest'ultimo per Riadirizzare l'acqua e prenderci un altro pezzo di cannone Il carbone allora ragazzi intanto io ho capito che ormai la tre punti interrogativi esce Tipo Una volta al mese C'è ormai questo qua è l'orario Se volete che la tre punti interrogativi esca di più dovete lasciare subito immediatamente un bel like Perché sto vedendo che ormai la tre punti interrogativi sta guardando molto di più della minecraft scp Perché tanto ormai la minecraft scp era l'unica serie che sapevamo portare Adesso abbiamo anche la tre punti interrogativi che non esce Basta Non mi dovrebbe inseguire Io scappo Vorrei sprintare E fu così che mi è inseguito dagli swamp monster senza accorgermene Claire Ok ecco fatto Lo scappiamo Anzi vediamo che cos'è sto blocco qua Si chiama swamp grassa appartiene sempre al bioma della palude dove sta lo swamp monster Ok ragazzi adesso dobbiamo scappare Sapete quanto assai Perché il gatto Allora ragazzi In questo episodio E niente c'è un t-rex Che poi quello la è lo stesso che avevamo visto nella minecraft scp Cioè in realtà non lo so quando uscirà questo video spero presto Cioè tecnicamente io ho visto nella minecraft scp quel t-rex che era anche un scp il 903 th che cazzo ci Cioè che ci fa in questa serie nella tre punti Mi sa che sono lo stesso che mi sa che sono lo stesso di rex però No No scappiamo Scappiamo Scappetto No Swamp monster Niente mi ha ucciso Swamp monster Lo sapevo Lo sapevo Ne ero sicuro che c'era lo swamp Ah lo sapevo Intanto è cresciuto Ah ragazzi Ormai il nostro nemico numero uno È lo swamp monster Va bene Allora ragazzi adesso in questo video sapete che dobbiamo fare Dobbiamo Cercare Dobbiamo tornare in quel bioma Perché Ho scoperto Che stanno robe bonose Quindi ragazzi Vediamo fra poco Ok ragazzi Allora è successo un bel casino Ovvero che questo galli Ho per sbagliato il gallimimus Questo qua Questo Povero erbivoro Ed è diventato Accresivo Perché l'ho picchiato Mi stavo difendendo da un altro mob Non devo morire io Non devo morire io Muori Cos Cos Muori È veloce sto a fare Dai muori Così Posso andare in giro per il mondo A vedere i gatti Aspettiamo ragazzi Aspettiamo Lo uccido Ok Alla fine l'ho ucciso Mi ha dato 5 di cuoio Mi sta Eh niente Si sta facendo notte Intanto ragazzi Io volevo dire Che Qua Questo bioma È buonoso Perché Ogni tanto Nelle caverne Spawnano Dei Dei Esce ne uno Spawno A questo Minicoso Che Ci consente Che ci sono Robbe Bonosissime Quindi Io ragazzi Direi Che è Dobbiamo salire C'è anche un pterodattilo Evitiamo di Farlo incazzare E prima che Si faccia Notte Noi dobbiamo Riuscire ad arrivare Qua sopra Mi sa che No Cos'è Un pillager È un pillager Ragazzi Un pillager Allora Dai forza Crea No niente Poi scopriamo Che non c'è I blocchi Ecco Allora Ultimo E aspettate Un attimo Ok ragazzi Allora Con la musica Epica Di Jurassic World Mi sa che Ho preso La torcia Sì Siamo Arrivati Credo Siamo arrivati Sì ragazzi Ce l'abbiamo Fatta Illuminiamo Ecco qua Togliamo Lo shift Ok Eccoci qua Ragazzi Questo È un Cubo Di Cobleson Sembra Vagamente Un dungeon Spawna Ogni tanto Nel mondo Direi Vediamo Quanta durabilità Il mio piccone Ce la fa Ecco E Ci sono In questi dungeon Delle piccole Ceste Con Roba Bona Direi Di aprire Vedere Che No 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 Qua Esageriamo Allora Vediamo un po' Cosa abbiamo Abbiamo Un uovo Di un drago L'uovo Del drago Del Veno Che dovrebbe essere Quello Del questo Bion Che lo Possiamo Creare Raga Eh Il drago È Bonoso Poi Cos'altro Abbiamo La Infinity Crystar Questa Questa Qua Tecnicamente È Buon È Bonosa Anche Questa Perché Possiamo Fare La Spada Di Spectrite Finalmente Che in realtà Si chiama Infinity Crystal In più Abbiamo L'oggetto Più Inutile Ovvero Il DNA Dell'Indominus Allora La Cassa Me La Prendo Perché Siamo Scarseggiando Di Casse E Io Di Rob Buone Ma No E No No Ragazzi Ha La Durabilità Il Coso Ok Allora Prendiamoci Le Torce E Come Ultima Cosa Che Vorrei Fare È Provare A Sconfiggere Quei Pillager Allora Intanto Vado A Provare A Frecciarne Uno L'ho Colpito Mi Vede Sta Cadendo Bono Oh È Morto Mi Ha Dato La Maledizione Raga Se Troviamo Un Villaggio Facciamo Il Video Del Ride Se Trovamos Io Però Voglio Capire Dove Ah È Morto Va Bene E Vorrei Provare Ad Arrivare Di Lì Come Faccio Questo È Il Problema Ragazzi Ci Vediamo Fra poco Prima Che La Roba Scompari Ok Ragazzi Sono Riuscito A Uccidere A Prendere La Sua Roba Mi Ha Dato Lo Stendardo Che Si Chiamano Stendardo Abitatore Va Bene Qua C'è Un Coso Che Non So Come Spawnato Sugli Scemo Là c'è Un Dinosauro Carnivoro E Allontaniamoci Ci Sono I Lama E Non C'è Il Padrone Questo È Il Problema E Ragazzi Per Questo Video Mi Sa Che Ci Possiamo Fermare Qua Non Abbiamo Nient'altro Abbiamo Sto Tiziano Muori Cristiano Muori Cristiano Muori Cristiano Muori E Stra Quanta Quanta vita C'ha Sto Qua Vorrei Prendere Il Cane Però Il Cane Sennò Muore Muori Ma Raga Secondo Voi Quanta vita C'ha Sto Coso Inoltre Dai Muori Lo So Che Muori Vai Raga Secondo Voi Ok Raga Ce l'abbiamo Fatta Lo Stendardo Lo mettiamo Qua E Direi Che Per Questo Video Può Essere Anche Tutto Lasciate Un Bel Like Iscrivetevi E Vabbè Qua Facciamo un po' Di spazio Tipo Così E Ovviamente Ragazzi Per questo Video Della Tre Punti Interrogative Tutto Da Me E Entro Sedici E Tutto Ciao Ciao